Il tuo futuro è già qui. Che aspetto ha? Semplice. Quello di ogni bambino. Noi del Gaslini facciamo il mestiere più bello e difficile del mondo. Studiamo, assistiamo e curiamo la malattia dei bambini. Lavoriamo per migliorare il loro oggi, il loro domani. Per supportare la ricerca scientifica e l'assistenza dell'Istituto Giannina Gaslini, contribuire al miglioramento delle strutture e degli ambienti dell'ospedale, all'accoglienza per le famiglie, è nata Gaslini Insieme, la fondazione per la raccolta fondi destinata all'ospedale dei bambini. Insieme possiamo donare un domani a molti bambini. Gaslini Insieme, per l'ospedale dei bambini.